La seguita della fortuna la vede un pochettino diversa da cui viene presentata. È fatta apposta? Mi sembra. Allora, glielo spiego. Questo progetto si chiama Ogni donna una madonna. Ed è nato dopo che un ragazzo, dopo avermi messo le mani addosso, mi ha detto Emma, tu hai ripetito così. Questo tipo di immagini le ho create spinta ovviamente da un po' di rabbia perché avevo bisogno di riaffermare soprattutto gli occhi di me stessa che non è un pezzo di abbigliamento o una scollatura a cambiare la sacralità di una persona, di una donna.